Sono morte intrappolate nella fabbrica dove lavoravano le oltre 55 vittime dell'incendio dello stabilimento di Pollame nella provincia di Xilin, nel nord-est della Cina. Le autorità temono che il bilancio possa aumentare, perché dei 300 allevatori presenti in quel momento all'interno dell'edificio non è ancora chiaro quanti ne mancano all'appello. Un centinaio sono riusciti a scappare, ma il cancello d'ingresso era chiuso a chiave dall'esterno. Dopo oltre sei ore dallo scoppio dell'incendio, i vigili del fuoco non erano ancora riusciti a mettere sotto controllo le fiamme e la struttura è ancora inaccessibile ai soccorritori. Incerte le cause del rogo, che secondo alcuni testimoni si è sviluppato dopo un'esplosione causata probabilmente da una perdita di ammoniaca liquida.